Buonasera amici di Fanner, gara valevole per la tredicesima giornata della Lega Calcio 8, serie A2. Questa sera al centrale dello Sport City si affrontano l'Atletico Fiumicino contro lo Sporting Blues. Corasse sul secondo palo, prova la conclusione al volo, e Gizzi, impreciso, salva però tutto per l'Atletico Fiumicino che rischia tantissimo. Mette giù un ottimo palo nero, prova ancora con il sinistro, Vazzana a centro dell'area, scarica per il compagno e c'è l'a destro. E il gol, il vantaggio della Sporting Blues che ha iniziato benissimo la gara, 1-0. Serve De Fato, De Fato se ne va, prova il sinistro! E c'è il miracolo di Gizzi, fermato all'ultimo momento, però la rimessa laterale in zona d'attacco, atterrato in area di rigore. Il fallo che l'arbitro assegna quindi il calcio di rigore per l'Atletico Fiumicino, atterrato il numero 3 in area di rigore. Va Solinas. Con il destro Solinas, portiere spiazzato e allora al tredicesimo minuto arriva il pareggio per l'Atletico Fiumicino. Palla per Vazzana che copre bene il pallone, scarica per il numero 5 che prova la conclusione al volo. Gioco pericoloso e calcio di punizione per lo Sporting Blues. Ma tutto velocemente, Vazzana dentro l'area di rigore! E c'è il vantaggio ancora per lo Sporting Blues con il capocannoniere del compagine in maglia gialla, Vazzana. Decimo gol. Malamente, Flore, di prima per Solinas. Solinas, scusate, il 2-2 arriva al diciassettesimo di questo primo tempo. Partita bellissima qui al centrale dello Sport City, 2-2. Subito palla recuperata dall'Atletico Fiumicino. Solinas, scarica per il numero 11 che fallisce, una ghiotta occasione. in controtempo, protegge Vazzana, Boccalini, finta col destro. Ancora Boccalini per il 3-2. Ancora in vantaggio lo Sporting Blues al venticinquesimo di questo primo tempo. 3-2. Ancora De Fato. De Fato porta palla. Ancora lui, scarica su Vazzana. La finta di Vazzana, la palla sul sinistro. Ancora De Fato. Servizio ancora per Vazzana che va col piatto destro. preciso per il 4-2 dello Sporting Blues. Ancora Vazzana. Vazzana. Serve De Fato. Ancora De Fato. Centralmente sembrava sul pallone l'intervento ma c'è invece fallo. Vazzana con il destro. Passa il destro di Vazzana. Allora 5-2 per lo Sporting Blues. Ancora il numero 99. A concludere per il 5-2. Bello il servizio di prima intenzione di Vazzana. Cioè De Fato da solo davanti al portiere che non fallisce. 6-2 per lo Sporting Blues. Ancora Solinas sul pallone a battere questo calcio d'angolo. Pallone per il numero 5. Bello lo stacco. Diventa un servizio per il numero 8. Flore sulla respinta del portiere. Accorcia le distanze. L'Atletico Fiumicino per il 3-6. Buono lo scambio con Solinas. Ancora Flore. Flore sempre in possesso. Caricala a destro. E c'è la 4-6 dell'Atletico Fiumicino. Che si rifà sotto. Mancano 5 minuti più recupero. A destra bene far salire il compagno. Il numero 9 che va con il sinistro deviato. E c'è le 7-4 per lo Sporting Blues. Che si riporta sopra di tre reti. Triplice fischio dell'arbitro. Finisce 7-4 per lo Sporting Blues. Ottima la prestazione dei ragazzi in completo giallo. Sulla prima della classe che va incontro alla prima sconfitta.